Siamo con Antonella Levi che rappresenta Radio Alba, che sarà protagonista in questo nuovo progetto DNA Alba. Ecco, chiediamo a lei quale sarà il ruolo dell'emittente radiofonica. Il ruolo principale di Radio Alba sarà quello suo naturale di informazione, di tenere in costante aggiornamento i nostri ascoltatori sullo sviluppo del progetto del DNA, invitando, intervistando i vari soggetti coinvolti nel progetto. Effettivamente invece abbiamo pensato di dare il nostro contributo con degli audio. Faremo la domanda sull'albesità sul DNA agli albesi, ai turisti, andando per le vie della città per riuscire a scoprire che cos'è questo DNA, se riusciremo. Dopodiché questi contributi verranno sia inseriti nel sito del DNA Alba che mandati poi in audio a random sulla nostra emittente. Grazie.